All'aggiuntivo 2.03 Fratoianni, parere contrario, Commissione-Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Cominardi, Porta, ancora non riesce a votare. Proviamo? Ok. Mi pare Benitelli e poi chiudiamo Pili. Chi usa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'articolo 3 e ai pareri sui relativi emendamenti. Prego, onorevole Buonaccorsi. Le devo leggere segnalati? No, faccio presto. Fa presto. Perfetto. Sono tutti pareri contrari, ad eccezione del 3.800 e del 3.801. Grazie. 3.801? 0.3. Quindi è un sub a quello delle Commissioni. No, scusate. Ce n'è un altro allora, che però nel fascicolo... scusate, nel fascicolo dov'è? 3.800. Vabbè, poi me lo dite voi dov'è, eh? Ok. Ok, grazie. 3.800. Onorevole Fico, prego. Sì, perché almeno sta lì tranquillo, ho capito. Sì, se ci può leggere lei. Ah, sì, ok. 3.1, Pannarali, identico, 3.1, Nesci. Favorevole. Ah, mi scusi, ce n'era uno prima. 3.220...